Benvenuti sul canale e buona domenica. Siamo al nostro appuntamento settimanale, spero che il video di domenica scorsa sul quartiere riqualificato grazie alla street art di Mantova vi sia piaciuto e nella descrizione come sempre troverete il link per chi non l'avesse visto. Veniamo all'argomento di oggi che devo confessare non è stato facile individuare anche perché in un momento come questo di crisi sanitaria dove i musei sono chiusi, le mostre non si possono visitare, gli spostamenti anche se da poco siamo tornati in zona gialla sono sicuramente pochi e ristretti, insomma non è stato facile trovare del materiale. Sono andata a scartabellare a rivedere un po' di foto e ho trovato una bellissima mostra che fortunatamente tra un lockdown e l'altro ero riuscita a vedere di un artista molto particolare nel senso che è molto brava, riconosciuta tale dalla critica, che ha una storia personale molto particolare e allora ho pensato che oggi valesse la pena raccontarvi di questa mostra e di questa pittrice soprattutto. Si chiama Carla Maria Maggi, probabilmente qualcuno a letto era uscito anche una, era uscito un bellissimo articolo sul Corriere della Sera che parlava di questa mostra che si è tenuta ad Arcore nel maggio del 2020 nella splendida cornice della Villa Borromeo che ha avuto un lunghissimo restauro e che adesso appunto dall'anno scorso è aperta al pubblico ed è veramente molto bella, anche il palazzo davvero interessante quindi indipendentemente dalle mostre che ospita se qualcuno ha occasione di passare da Arcore, vale la pena farci una visita, fanno anche delle visite guidate fra l'altro. Ma veniamo alla nostra artista Carla Maria Maggi, nasce come dicevo nel 1913 quindi nello scorso secolo e nasce in una famiglia altolocata a Lombarda. Da subito nutre un grande interesse, una grande voglia di dipingere, di disegnare, di colorare, di occuparsi di arte in qualche modo e la mamma ahimè non è per niente dell'idea di accontentarla in questa sua passione anche perché in quegli anni avere una figlia che si occupasse d'arte, che andasse a lezione d'arte era un po' scomodo, era un po' sconveniente. Fortunatamente però il padre decise invece di assecondarla e la iscrisse a lezione presso la bottega d'arte di Giuseppe Palanti. Palanti era un artista molto ben inserito nel tessuto borghese e milanese, collaborava con la Scala, era oltre che pittore anche costumista, anche scenografo, quindi nella sua bottega circolavano le ballerine della Scala, poi vedremo quanto sono state importanti per la crescita professionale di Carla Maria Maggi e quindi Carla Maria iniziò a prendere lezioni in questa bottega. Come si vede in questo ritratto della mamma, oltre alla bellezza del ritratto, la tecnica che è stata usata, questo sguardo severo della mamma, questo stile molto austero, molto formale, molto rigido per certi versi, che a tutti gli effetti voleva essere un omaggio probabilmente alla mamma che tanto l'aveva ostacolata nella sua passione, ma che nonostante tutto forse aveva deciso di farle comunque un omaggio, visto che alla fine era comunque sua mamma, insomma. E il bello di Carla Maria, come pittrice, oltre, come già detto, la tecnica sicuramente molto particolare, è stata anche la capacità, non solo in questo ritratto, ma anche in molti altri, perché nella sua opera la ritrattistica copre una parte veramente significativa, è stata capace di renderci in qualche modo anche l'aspetto psicologico, caratteriale delle persone. Guardando la mamma in questo dipinto, in questo ritratto, si vede benissimo che tipo di donna era, quanto fosse rigida e austera e anche magari poco affettuosa nei confronti di Carla Maria, molto legata ai dettami del periodo che viveva, la borghesia nella quale era inserita. Se noi guardiamo all'opera globale di Carla Maria Maggi, oltre a una grande quantità legata ai ritratti, come dicevo, c'è un'altra grande quantità, un corpo di opere molto importante legato al mondo del ballo e delle ballerine. Nella bottega di Palanti, essendo lui un artista a tutto tondo, perché oltre a costumista, scenografo, pittore, lavorava intensamente per la scala, capitava quindi molto spesso che queste ballerine passassero nel suo negozio, venissero utilizzate per fare copia di nudo femminile dal vero e anche Carla Maria partecipava a queste lezioni, anche se era assai poco conveniente in quell'epoca che le donne potessero partecipare a lezioni dal vero di nudo femminile. Lei non si preoccupò molto all'inizio di questo, era talmente interessata, motivata a ritrarre queste ballerine, tant'è vero che il suo modo di ritrarre le ballerine non è assolutamente quello dei suoi colleghi pittori, Palanti stesso, dove vediamo queste pose seduttive, ammiccanti, con questi sguardi languidi. Le ballerine che vengono ritratte da Carla Maria sono ritratti in una maniera genuina, in una maniera, come posso dire, facile, quotidiana, per come lei le vedeva come donne che vivevano danzando, che si allenavano diremo oggi, dalla mattina alla sera per essere performanti, per essere belle, per essere al meglio delle loro possibilità. E tutti i suoi ritratti di ballerine sono assolutamente normali, semplici, senza nessuna doppia lettura. Ma naturalmente anche questo non le giovò molto perché non solo non era consono in quegli anni per una ragazza, per una donna, insomma, appartenente alla borghesia, all'alta borghesia partecipare a questo tipo di lezioni e tantomeno poi produrre opere di quel tipo, dove comunque dei nudi c'erano a tutti gli effetti. Il marito cominciò ad essere molto contrario, diciamo, a tutta questa attività della moglie e Carla Maria a un certo punto decise di abbandonare tele e pennelli e di non occuparsi mai più di pittura. Fortunatamente, dopo la sua morte e dopo tanti anni peraltro, il figlio casualmente, andando a ripescare, non si sa cosa, ma facendo un'ispezione, diciamo, nella soffitta della casa di famiglia, trovò tutte queste opere della mamma, di cui non sapeva assolutamente niente rispetto alla sua vena artistica perché probabilmente la mamma non ne aveva mai parlato durante tutta la sua vita. Aveva proprio cancellato questa sua grande passione e per salvare l'onore, la famiglia, il rapporto con il marito, abbandonò questa grande passione che fin da piccola l'aveva animata. D'altra parte, lo sappiamo, le donne nell'arte non sono state mai agevolate. Se solo pensiamo, vorrei fare un parallelo importante su tutte quelle, su tutti quelli che potrei citare, se solo pensiamo alla cosiddetta Tintoretta, la Marietta Robusti, figlia appunto di Tintoretto, che fu addirittura richiesta alla corte da Filippo II di Spagna in persona, dove già era andata Sofonisba Anguissola a lavorare. E il padre, invece di essere felice per la figlia, che poteva anche dare seguito alla sua passione, fare un'esperienza, sempre diremo oggi, in una corte reale all'estero, che cosa fece? Decise bene non solo di non accettare che lei potesse andare, ma la sposò subito da giovanissima in modo da toglierle qualunque velleità. E quindi sappiamo, insomma, questo è un esempio come tanti altri potrei fare, come le donne, dicevo, nell'arte non sono state sicuramente favorite nella loro passione, non sono state per niente incentivate. Bene, le immagini che state vedendo, come dicevo, appartengono alla mostra, sono state scattate dal mio cellulare durante la mostra che si è tenuta alla Villa Borromeo l'anno scorso. Se ci sarà occasione di vedere Carla Maria da qualche altra parte, ve la consiglio, a me è piaciuta molto, ci sono tantissime opere veramente degne di nota, a mio avviso. E spero di essere stata utile, di avervi incuriosito, interessato, come sempre. I vostri commenti preziosissimi li leggo tutti con molto piacere e vi aspetto la prossima domenica, dove parleremo di un'altra grande donna artista, ma questa volta fuori confine. Arrivederci e alla prossima.